Diego, oggi ti ho organizzato tutto il video io Bravo, bravo doppi Eh, grazie, grazie, grazie Ok, cosa ho organizzato? Ho un video da 30fps che abbiamo già visto, tra l'altro Che non ti aveva stupito più di tanto Ho 30fps Eh sì, sì Non ti aveva stupito Adesso ne fa due e quarante Secondo me sarà tutt'altra cosa Ok, ok Potrebbe essere di... Invitalo, chi è? Chi è? Eh, ma è recente Eh, adesso vedi Fammi vedere, te lo dico, te lo dico Vediamo Non mi aveva stupito Chi è che non mi aveva stupito? Ah, ma è Rudy! Ma non è il tuo tuo È il tuo tuo È quello che prende in giro sempre Garza nei commenti Rudy, ma come ti permetti? Ma come ti permetti, Rudy? Come ti permetti? Da 30 a 240fps Vediamo, raga L'ultima volta era stato sfigatissimo Aveva giocato molto bene Solo sfigatissimo Aveva messo anche il titolo L'avevo messo Ed era... E tra l'altro, oltre che sfigatissimo Aveva iniziato a giocare da una settimana Sì, è vero, è vero Me l'avevi detto L'avevi detto che aveva smesso per un po' Quindi, ragazzi Ora ci sono tutte le carte in gioco Per fare un bel game, no? E poi la tua tua Se la due di Tompi Un motivo ci sarà, no? Un motivo ci sarà Non a caso la due di Tompi C'è gente Hai qualche kill, fratello? C'è gente, c'è gente C'è una kill Ok, c'era gente dietro Ho sentito gente dietro Due kill, già, ok Ma a Zontari scende gente da quando? Sì, sì Eccolo Bello Distrutto Distrutto, annichilito Questo non ci ha capito molto Non ci ha capito molto Quello ha sparato E poi è rimasto nella scala Che gli si è rigirata E non ci ha capito È morto, cioè quello ha fatto Ma come è possibile? Tre, tre Se era due Più una kill Fratello La matematica La matematica La matematica dei Tompi È un po' così E io direi di fare un refresh Un recap Un recap Un recap Vai, vai Allora, ricordiamo che è giocato a pad Sì, me lo ricordavo Da i 30 a 40 di ping Va bene Non è male Non è bene Non è il mio zero naturalmente Però va bene Vabbè ragazzi L'altra volta Vedete La persona Lo sapete cos'è? Ho utilizzato il codice creatore ora L'ultima volta no Sfigatissimo Ho messo Diego Trattino abusivo Pompa oro Pompa oro Mitraglietta oro ragazzi Diego Trattino abusivo Cioè quando l'utilizzo non c'è una partita che non trovi in pompa Devo dire la verità Ragazzi vedete Vedete Però come dico sempre Andateci cauti Perché potrebbero bannarvi Tra l'altro ricordiamo Ma ormai chi mi segue lo sa Vero Tompi Che chi lo utilizza Troverà a loot infinito per terra Quindi puoi anche non farmare Puoi anche non farmare Puoi anche non farmare Tranquillo Sì ma troverai loot a caso Con 900 di legno Così random Il suo punto di forza era la mira no? Vero Tompi? La mira La mira è incredibile Adesso Vabbè ma pure sei rialenato naturalmente No? Sei rialenato Perché Vabbè è tornato in attività Che è un lavoro Oh qua sotto No Bra Dici la mira E poi mi missi questo Bello Bello Sì 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 Ma la cosa bella sapete qual è Non è stra veloce Ok? Non è stra spettacolare Ma fa le cose giuste al momento giusto E distrugge un altro buon paolo Un altro buon paolo Da vedere è molto fluido Sì sì è molto fluido È molto fluido Cioè è concreto fra È concreto Questo magari ti spacca uno che fa 40 free build in un secondo Vi svelo un trucco ragazzi Ma come è un trucco? Così svelo un trucco Praticamente i pad player Quando devono fettare qualcuno che non c'è spuglia Oppure nell'air la mia assistita non funziona Ah sì? Ma che trucco ragazzi Ma che non è un trucco? Ma non è che trucco è? Ma che trucco fallito è? Un trucco Ma non è un trucco questo? Questo è un problema di Fortnite Che trucco Ho scoperto Adompi ma che mi hai portato? Un truffatore Dai Rudy io direi che è un minimo un 10 kg Sì 10 bombe Sì sì 10 bombe Per renderla emozionante Raga fatemi sapere nei commenti se anche da voi fa così caldo Io ogni volta che registro con le luci accese raga diventa un peperone Ma sì ma io pure le luci accese fanno un caldo della miseria Il PC a palla Anzi 2 PC a palla 70 monitor Va troppo caldo Devo registrare a mezzanotte ma non posso Oh oh Una riftata Una riftata Raga mi fate sapere una cosa Visto che gioco così tanto a Fortnite Che lo so no? Però voglio sapere se siete pronti E se siete aggiornati Ma hanno messo le moto? Io non lo so Non l'ho vista Madonna Non lo so non lo so Tutti dicono moto Sarà titoli clickbait come al solito Le moto le moto Hanno messo le moto Poi non ci stanno le moto Poi non le metteranno male moto Poi le metteranno tra una settimana Tra un mese però Hanno aggiunto le moto E vabbè no zio No questo non è niente Oh Niente Gli è entrato al momento 5 kill? 5 kill? Sì 5 kill Per Tompi 12 vero? Raga la safe è bella lontana E parte da 7 secondi Quindi o trovi un cannone O trovi una macchina C'è un mezzo O trovi un rift Che trovi? Un camion No 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 non è meglio Perché non lo prende Poi come fai a stare alla collina Un casino? Devi trovare qualcosa La faccia per la strada Fa la strada vabbè Ma lui è un onesto Sono un camionista Un camionista C'è qualcuno qua dentro C'è qualcuno qua dentro 100% Sento l'odore E infatti Sento l'odore della paura Si è cagato sotto probabilmente Cioè la caga La vedi la caga là Eh Non aveva vita poverino Non aveva vita E ci sono i lupi Stai attento Comunque sento l'odore di polvere da sparo Eh c'è un altro C'è un altro Vedi? Sentivo l'odore di polvere da sparo Appena ricarica del pompa Fra vedete? Vedete? Io gioco in 4D ormai Sento anche gli odori Eh ancora no Bello distrutto Annigli Oh Mancano solo 3 kill Non ci capiscono niente No non ci capiscono niente ragazzi Non ci capiscono niente Non per caso sono la 2 di Tompi Sì ma ancora non hai sviluppato l'olfato Eh 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 Quindi puoi essere la 2 di chiunque Ma ancora non sei forte quanto me Eh eh Non puoi essere forte quanto me Vabbè ma tu sei raggiungibile Eh lo so appunto Ma perché lo devo dire ogni volta Tompi Sono raggiungibile Ha ragione vedete Vedete lo stanno tutti Devo termine ragazzi Oii A fine video voglio dire una cosa Ma hanno rimesso il crombo L'ha sentito? Eri spawnato Sì è vero Lo sentisco Ma di nuovo E vedete raga Mi sa pure due tre insieme spawnano Non lo so A 1000 like faremo una gara di ruti Vero Rudy? Vero Rudy? Sì è imbattibile però Allora vediamo Vediamo sto rampino Spiderman con il rampino Sembra più Batman in realtà Entrato? Bello? 126 Ehm Non riesce a prendere il muro? Bello? Vabbè diciamo che la lobby Non è tutto sto granché però La gente rimane ferma Dai dobbiamo dirlo Cioè sta giocando benissimo Ma la lobby ragazzi Sembra un po' studiata Ma quando vedo un player come me Non c'è niente Ma perché non usano il codice creatore? Sì Vientra! Bello! Ce n'è un altro Sta attento eh Dopo di questo c'è un altro Ok Si si ha rischiato Il problema è perché era concentrato sull'altro Secondo me A sentire anche l'altro Vero Rudy? Ecco Fattelo questo fattelo Ti pusha con la shockwave Ti pusha con la shockwave Un'altra Eh però è bello fluido eh Eh si te l'ho detto Ecco E questo Però Si 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 Assolutamente Ma basta Uomo delle shockwave Ci ha preso pure l'hit Questo rompe le scatole Allora Secondo me non è forte Ma rompe le scatole Questo utilizzer codice Si vede Questo è un pippone Però utilizzer codice Sembra forte Allora O lo pushi con il rampino Come un pazzo E rischi Oppure ok Lo pushi con un po' di retei che coperni Ma questo è un pippone Si sta scappato Sono abbastanza sicuro Si sta naggiando le granate Si sta anche Ma questo è pa... Questo è un rompe... Guardatelo No ragazzi È un rompiscatole supremo Ti prego Devi ucciderlo Ma proprio cattivo Proprio li devi spappolare il cervello Bello 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 Dov'è ora? Dov'è? È sceso È sceso Ok sì 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 Perché parla Siri Seppure è chiuso Se è full box Sotto no però Sotto Cretino Così ti impari a rompere le scato Ragazzi manca l'ultima e da dieci Kilo Ah quindi potresti farne l'undici Dai undici bombe Dopi quante ne ha secondo te? Cosa? Ne cosa? 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 Boh Di gol No comunque sembra veramente migliorato Sembra veramente migliorato Tanto migliorato Dall'ultima volta Sembra molto più confident Io vorrei dire una cosa Dilla Dilla Visto che secondo me non ti ha ancora stupito del tutto Perché tu dici boh lo vedi qua Contro questi player che non sono proprio fortissimi Dici Vabbè Io direi che a mille like potremmo vederli In creativa contro cars Contro cars così Contro cars Sì Contro un ex Va bene Va bene ci sto Raga lasciamo dei like Oh Ma questo usa l'inbot Ti sta pure pushando però stai attento Eccolo Arriva 3 2 1 Ma? Che stacca tira questo? Che altro attraverso ti ha preso fra questo è strapingato Fidati Li sono entrati late così hai strapingato Fidati Ha una buona mira eh Però il ping aiuta tantissimo Ti ha preso attraverso almeno nella mia visuale Ti ha preso attraverso Stai attento fra che questo c'è una god mira e un buon ping secondo me Ora scopriamo gatti Buono 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 Io sono un po' concentrato Eh l'ultimo non è male eh No no Non sembra per niente male Sale coperto No 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 bene Nooo E' sparato con un secondo di delay fra l'avevi preso Ok 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 Bello Bello let's go Let's go Cg Mille like Per forza voglio vederlo contro karts Contro karts